salvini buongiorno incontrato la meloni oggi questa mattina per la prossima settimana l'italia avrà un governo sul viminale ci ha messo una pietra sopra buongiorno la russa rientra dentro cosa fa rientra dentro presidente è uno stallo messicano io sono la scorta del presidente è fatta c'è l'accordo per i presidenti non ne abbiamo parlato giuro che è vero e di cosa avete parlato abbiamo parlato dei quali provvedimenti per primo il governo a mettere in campo e quali saranno salvini allora presidente ci siamo pronto a fare il presidente del senato io sono pronto a fare tutto mi è andato il vertice sono fatti passi avanti sono fatti passi avanti lavoriamo lei o la russa alla fine lei non cede questa scelta sarà affidata in occhio alla macchina si? ai nostri leader ma volete Giorgetti di risposta? no la telefonata strategica no la finta telefonata strategica pensata viene prima di poi eh certo ci mancherebbe c'è un po' il programma giornale fai il tuo verso le cinque dai un minuto un minuto una sola giurgetti ministro l'economia vi piacerebbe salvini ciao ragazzi fontana c'era un minuto a lei niente due due